Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red Come vedete siamo ritornati finalmente dopo una piccola vacanza Si appunto mi sono preso una piccola vacanza Ma non nel senso che ho lasciato il canale e non ho voluto far video Anzi sono andato proprio in vacanza, cioè sono stato un paio di settimane fuori da Napoli Quindi per questo non sono riuscito a pubblicare i miei video e non ho avuto tempo per farlo Visto che comunque non ho un portatile per fare video dove sono andato in vacanza E ne altro Più che altro voglio parlarvi che da oggi ritornerò a fare gameplay Anzi questo è un mini vlog per dirvi appunto che ritornerò a fare video E in questa settimana andrò un po' leggero, cioè usciranno dei video Però visto che siamo ancora in periodo estivo, molte persone sono ancora in vacanza Ho preferito fare un video dove giocherò a pocosina di pochi minuti Oppure porterò qualcosa di particolare Infatti in questa settimana già mi sono progettato cosa far uscire come video E non saranno molto lunghi Cioè in circa massimo dureranno proprio 10-12 minuti Ma proprio voglio ingrandire la cosa Quindi non usciranno i soliti video con Arca, il signor Alcanto, su Minecraft Oppure da solo Cast of Crash se sbagliate cose Queste serie le riprenderò verso settembre, il primo settembre e riprenderò tutte le serie che stavo facendo Poi un'altra cosa, ho preso questa piccola pausa in questa settimana Cioè non portare i soliti video che facevo Perché il signor Alcanto, il signorino Alcanto è in vacanza Quindi non so precisamente quando tornerà Ma se non mi sbaglio tornerà per settembre Quindi in questi ultimi 8-10 giorni che rimangono del periodo estivo Lui non ci sarà Quindi è tutto ok, sono ritornato anche io finalmente E ritornerò a portare i fantastici video Cioè non è vero, fanno schifo Però va bene, non lo stesso I miei video su questo canale Ciao a tutti ragazzi Questo è un mini vlog, quindi vi ho spiegato solo le piccole cose E per il caso, io avevo anche avvisato sulla pagina Facebook che sarei partito Quindi in caso che qualcuno non sia iscritto A volte non ho tempo per fare un video veloce E dire guarda vado in questo punto perché questa settimana non ci sono Quindi sfrutterò la mia pagina Facebook per scriverlo velocemente Infatti lì ho già avvisato che andavo in vacanza E in caso chi non è iscritto sulla pagina Facebook Basta che andate sotto la descrizione del video E troverete la pagina Facebook Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!